Musica Buonasera a tutti i telespettatori di Lente di Ingrandimento Buonasera al nostro ospite, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris come sempre presente in questo spazio di approfondimento legato all'amministrazione della nostra città e non solo Sindaco, è doveroso rivolgere un pensiero alle vittime della strage accaduta ieri in Puglia un incidente, due treni che si scontrano alla velocità di oltre 100 km orari un bilancio drammatico, 27 morti, 50 feriti bisogna riflettere sulla sicurezza e soprattutto sulle nostre infrastrutture in particolare del sud, secondo lei? Innanzitutto è una tragedia immane una delle più gravi tragedie in assoluto per i trasporti per il trasporto su ferro quello che trovo vergognoso, lo dico con molta sincerità perché è un ragionamento e sono cose che dico da tempo che su una tratta significativa del nostro paese in particolare del nostro sud, in tutta la fascia adriatica e ionica quindi fino a Reggio Calabria noi abbiamo un binario a lunghissimi tratti addirittura non elettrificato c'è un binario con treni che vanno a diesel ci manca poco che ci sia ancora lo schiavo che mette il carbone per alimentare i motori io credo che questo sia vergognoso perché non è l'assenza delle risorse economiche per fare infrastrutture soprattutto al sud è volontà politica perché gli stessi che non vogliono questo sono quelli che sventrano per sempre montagne per realizzare ad esempio un'opera assolutamente inutile dannosa contro natura e che favorisce cricche e mafie che la TAB in Val di Susa ecco perché è una vergogna quando noi diciamo i governi che negli anni sono succeduti per il mezzogiorno non hanno fatto nulla di significativo che molti politici del mezzogiorno che per anni hanno gestito fondi europei significativi non hanno fatto nulla poi chiaramente accade la tragedia e questa cosa si amplifica tragedia che poi colpisce chiaramente i più deboli colpisce i pendolari, colpisce gli studenti colpisce la povera gente la gente va a faticare che non ha magari mezzi alternativi e deve andare su quel binario non e poi ci può stare qua vedremo se è l'errore umano se c'è dell'altro l'inchiesta poi chiarirà oltre la solidarietà, la vicinanza che chiunque dà in questi momenti e ci mancherebbe altro però a noi tocca fare una riflessione soprattutto a chi vuole cambiare questo paese come noi e come da tempo stiamo facendo battaglie perché al sud possono arrivare fondi europei e non chiacchiere che ci possano stare infrastrutture andate a vedere questo governo quante risorse economiche ha destinato per le infrastrutture anche ferroviarie del nord e quanto ha destinato al mezzogiorno al mezzogiorno nulla solo in campagna elettorale sono state fatte chiacchiere quindi secondo me c'è anche una responsabilità politica evidente poi c'è la responsabilità penale c'è la responsabilità giuridica e c'è la responsabilità politica che non è una cosa eterea perché la responsabilità politica poi si accompagna a effetti collaterali che possono arrivare anche alle tragedie se tu non metti in campo denari sufficienti se non rubi se ci sono tutta una serie di cose di conseguenze quindi bisognerebbe assolutamente mettere mano alle infrastrutture soprattutto al sud dove come abbiamo detto c'è questo divario enorme rispetto al nord perché è inspiegabile che una tragedia possa accadere in questo proprio ecco sul binario unico poi ci può stare io invito a tutti a fare un la tratta Bari-Reggio Calabria è un calvario ci vuole più tempo a fare Bari-Reggio Calabria che a fare che ne so Roma Londra si fa un binario un binario con dei treni improbabili chiaramente anche il tema della sicurezza perché si passa dei passaggi al livello è uno scenario diciamo tra fine 800 e inizio 900 quello è manca poco che c'è il carbone con quello con la pala che ci mette il carbone dentro inquietante è una cosa che si dice da tempo ma perché i tagli che fa Trenitalia e che fa quindi il governo anche per le tratte che vanno dell'Eurostar dalla Roma verso Reggio Calabria c'è un conto in Roma-Venezia Roma-Torino anzi diciamo Napoli-Torino Napoli-Roma Napoli-Venezia e un'altra cosa è quando vai da Roma verso sud dove sono tagli ti fanno pagare lo stesso biglietto però il treno nuovo copre la tarta verso il nord e il treno vecchio quello usato ormai di anni lo mettono verso sud è una cosa inaccettabile il prezzo è lo stesso come quando noi diciamo la vergogna dell'RC autoassicurazione perciò noi mettiamo in atto e stiamo mettendo in atto una ribellione è una ribellione che si sta affondando sul riscatto del mezzogiorno che non tollera più queste politiche quindi noi per poterle portare avanti le nostre battaglie dobbiamo andare sempre di più verso Roma e fare battaglie non più solo a Napoli dove Napoli pian pianino la stiamo liberando dall'affarismo dalla malapolitica dalla camorra dei colletti bianchi andare verso Roma in modo da fare la stessa operazione nei palazzi che poi decidono le politiche diverse verso il mezzogiorno e anche verso il paese perché la Tav è in Val di Susa quindi i problemi sono sempre nazionali però al sud c'è una discriminazione che è assolutamente evidente sotto gli occhi di tutti quindi da queste tragedie bisogna partire appunto per cercare di arginare questo divario che esiste tra nord e sud e mettere in sicurezza le nostre infrastrutture bisogna andare avanti anche nella tradizione come purtroppo nella vita anche in presenza di queste tragedie e voltiamo pagina Napoli ha vissuto quattro giorni splendidi dolce e gabbana a Napoli vediamo questa scheda a Napoli a Napoli allora sindaco abbiamo visto questa scheda proprio di dolce e gabbana tratta dal sito ufficiale di dolce e gabbana veramente è stato un evento incredibile la gente ha partecipato con grande emozione al di là di quelle che sono poi le polemiche che risultano relative in questa circostanza perché è veramente una bella immagine di Napoli nel mondo ma al di là di come la si voglia pensare su questi eventi chiaramente non so per esempio il mio profilo di vita è di gran lunga distante se vogliamo da quel tipo di immagine ma Napoli che in vetta oggi a livello internazionale noi abbiamo l'orgoglio di aver ospitato questa iniziativa a Napoli che dolce e gabbana hanno scelto Napoli che Napoli ha fatto il giro del mondo per la sua capacità attrattiva per la sua forza per la sua organizzazione i complimenti che abbiamo avuto sono stati incredibili ci hanno detto che mai come a Napoli è andato tutto bene che Napoli ha dimostrato non solo la sua bellezza ma la sua passione la sua umanità la sua capacità organizzativa è stato anche un evento popolare quindi non è vero che è stato un evento solo d'elite chiaramente loro hanno un loro target che è quello di poter invitare i loro ospiti di poterlo fare in condizioni di sicurezza e quindi sono delle imposizioni che abbiamo avuto però devo dire che loro hanno coinvolto mano d'opera locale hanno coinvolto giovani hanno coinvolto tutte ditte napoletane e nei prossimi giorni pubblicheremo i milioni di euro di ricaduta che ci sono state in città quindi la città si è arricchita da ogni punto di vista e poi l'immagine che c'è stata nel mondo poi la giornata più bella è stata il sabato mattina con la cittadinanza onoraria a Sofia Loren infatti vediamo appunto l'immagine di quella splendida mattinata la maschia o angioino dove lei ha invitato la cittadinanza onoraria a Sofia Loren quella è stata organizzata da noi quindi ecco lì dove dipendeva da noi l'abbiamo aperta al popolo c'erano oltre 500 persone non c'erano inviti per le autorità non c'erano sedie quindi questa è una città che oggi è internazionale non deve avere paura o non bisogna storcere il naso insomma se eventi di questo tipo scelgono Napoli perché se poi tanti vengono a investire se ci sono centinaia di migliaia di turisti e se questi centinaia di migliaia di turisti producono migliaia di posti di lavoro e se i posti di lavoro sono soprattutto di ragazzi che operano che vivono nelle periferie che quindi possono finalmente avvivere è anche è anche frutto di eventi di questo tipo quindi Napoli oggi torna in vetta Napoli è una città che sa ospitare ogni tipo di evento è una città della cultura orizzontale ma è una città internazionale e come tutte le città internazionali oggi è all'altezza di ospitare qualsiasi evento dalle universiadi a Dolce Gabbana al grande evento delle metropolitane ai grandi concerti da Elton John a David Gilmour agli altri che verranno perché si sta lavorando a una stagione strepitosa per l'anno prossimo questo è frutto di un duro lavoro è frutto di un lavoro è frutto di competenza è frutto di capacità di onestà di passione e devo dire e chiudo con un grandissimo coinvolgimento della Napoli popolare della Napoli delle professioni delle botteghe dei commercianti degli artigiani dei musicisti ecco questa credo è un'immagine forte quindi ben vengano le critiche costruttive perché ci dobbiamo sempre migliorare altro invece è chi comunque si deve sempre in qualche modo ma sono dati assolutamente confortanti anche quelli dati da Confo Commercio non ancora ufficiali ma parlano di numeri importanti per questi quattro giorni noi daremo i numeri in senso reale nei prossimi giorni sono oltre ogni aspettativa non è solo il tutto esaurito degli alberghi è proprio un livello di lavoro di indotto impressionante ma poi voi dovete pensare a quello che nel mondo ha girato gli ospiti con cui ho parlato e persone che già hanno deciso di fare iniziative a Napoli la loro riflessione che mi hanno fatto guardate siamo tornati talmente bene siamo stati in città l'abbiamo girata come cittadini qualunque abbiamo speso abbiamo vissuto mi hanno detto quello che vi danneggia nel mondo è Gomorra tutti l'hanno detto perché in tante parti del mondo la gente pensa soprattutto in determinati ambienti che Napoli sia solo Gomorra che Napoli sia solo Camorra che Napoli sia solo malaffare sia solo sparatore ecco perché serve anche questo perché tanta gente che poi conta nel senso che va nell'orgolo di origine frequenta ambienti politici istituzionali va nei media e può raccontare una Napoli completamente diversa una Napoli non è solo bella quindi mandolino pizza quella che emerge anche in queste immagini ma la Napoli operosa la Napoli in grado di organizzare la Napoli di un'efficienza al dettaglio cosa che magari non accade a Milano non accade a Roma e non accade in altre città quindi credo che questo sia un motivo di orgoglio forte per la città indipendentemente poi dal comune sentire è evidente che Dolce e Gabbana parliamo di alta moda parliamo anche di lusso e quindi è chiaro che il gioiello che è là in mostro è un gioiello che noi possiamo solamente guardare e rimane là ma questo è un altro discorso sì e a proposito di Dolce e Gabbana c'è anche l'attestazione di stima nei confronti della manifestazione del governatore della Campania Vincenzo De Luca il quale appunto dice tutto è andato bene abbiamo fatto vedere una bella immagine di Napoli l'unica cosa che chiede è che ci sia programmazione che si mantenga il bello che abbiamo visto ma sono assolutamente d'accordo tanto è vero che noi come comune di Napoli la programmazione la facciamo fin troppa e la facciamo anche senza risorse mi auguro che nei prossimi cinque anni ci possa stare una sinergia più forte con chi detiene come dire in qualche modo la cassa delle risorse per il turismo e il cultura non ci dimentichiamo che le grandi risorse per cultura e turismo stanno alla regione Campania quindi chi ha risorse e chi ha il compio della programmazione più che dire e sono d'accordo programmiamo bene programmiamo cioè non lo diciamo facciamo quindi se De Luca vuole come mi auguro la sinergia la cooperazione la collaborazione del comune a migliorarci sempre in termini di organizzazione e di programmazione noi non siamo felici molto di più felicissimi perché noi in questi cinque anni abbiamo fatto quasi tutto a risorse veramente poche risorse poche comunali grande collaborazione degli operatori turistici e culturali ma non è che abbiamo avuto grossi finanziamenti da parte della regione quindi mi auguro che finita questo anno superato la campagna elettorale anche su cultura e turismo perché devo dire sul turismo insomma non è che ci siano stati segnali particolarmente brillanti da parte della regione campania in tutti questi anni in termini di programmazione come dice De Luca e in termini di finanziamenti soprattutto addirittura siamo andati in grosse fiere dove c'eravamo noi come stand e mancava la regione campania quindi insomma credo si debba fare di più e anche meglio se pensiamo invece in alcuni casi dove tanti milioni di euro vanno per delle iniziative dove ci sarebbe tanto da dire però questo poi magari ne parliamo un'altra volta e anche Antonio Bassolino suo avversario da sempre politico ha detto lasciamo da parte le polemiche è stato un evento straordinario per la città di Napoli sì lo apprezzo chiaramente ma è un fatto oggettivo io devo dire al di là di come ripeto la si voglia pensare su cose di questo tipo uno può pure dire no è sul proprio contrario non si dovrebbe fare queste cose però chi ha visto questi giorni chi ha potuto in qualche modo analizzare l'immagine di Napoli del mondo e poi quella straordinario momento della cittadinanza e Sofia Loren che ha fatto il giro del mondo cioè quelle immagino 200 giornalisti accreditati siamo andati in tutto il mondo col maschio angioino la cittadinanza non può che dire e lo ringrazio chiaramente a lui come tanti altri che è stato un grande successo della città di Napoli a questo punto ascoltiamo l'emozione di Sofia Loren in questa scheda non è facile parlare per me è facile quando sono davanti a una macchina da presa e dico delle battute scritte per me e le dico con tutto il cuore con tutto l'amore ma qui di amore ce n'è stato tanto questa mattina soprattutto per il sindaco ho detto delle cose bellissime poi è pure un bel uoglio comune allora signor sindaco autorità cari amici tutti ricevere un premio è sempre un'emozione speciale ma riceverlo qui nella Napoli a me tanto cara da sempre da quando sono nata tutt'una con la mia Pozzuoli è molto di più è una soddisfazione intima che gratifica il mio animo e che mi accompagnerà e che mi accompagnerà a lungo perché queste giornate hanno un termine non durano all'infinito grazie grazie di cuore a tutti e grazie alla mia cara Napoli io ci vengo sempre molto spesso sit sit ci vengo grazie di cuore per questa bellissima bellissima giornata grazie grazie ancora una volta al sindaco che è stato veramente splendido e meraviglioso grazie allora sindaco abbiamo ascoltato l'emozione di Sofia Loren Sofia Loren ha detto anche che è un bello maglione quindi immagino che lei in quel momento abbia avuto un'emozione ancora più grande detto da una donna tra le più belle potrei anche aver raggiunto la pace dei sensi per certi aspetti no veramente mi ha fatto piacere perché ho colto la spontaneità di quel complimento alla città ovviamente anche alle parole che spontaneamente avevo detto io poco prima e che le ha colto evidentemente come parole spontanee vere non c'era nulla di superficiale di costruito in quella mattinata e da là sopra era bello vedere la gente come dicevo prima in piedi quindi senza sedie per autorità la gente che ha chiesto di venire oltre 500 persone e io vedevo dall'alto che quasi tutti piangevano e chi non piangeva aveva insomma lo sguardo commosso quindi è stata veramente una giornata particolare si aveva un po' la sensazione del tempo che si potesse sospendere in quel momento un tempo sospeso e l'immortalità di una donna che oggi forse rappresenta a livello mondiale l'unica grande attrice vivente che ha attraversato il novecento e che ha attraverso generazioni ho visto a San Gregorio Armeno bambine rincorrerla di 7-8 anni con le lacrime agli occhi e chiaramente persone di 80-90 anni quindi una generazione intera e credo che sia stata anche quella quella è un'immagine oltre del dolce gabbana Sofia Loren e loro hanno voluto Sofia Loren ecco perché c'è stato il rispetto della città l'hanno ricercata per tanti anni si è cercata Napoli in questo evento in questo evento c'era Napoli non hanno calato dall'alto come dire la loro cultura loro hanno mostrato il loro prodotto ma hanno rispettato Napoli e il miglior come dire simbolo in questo momento per sancire a livello universale la potenza di Napoli era Sofia Loren e in quelle parole in quel momento Napoli diventa universale cioè Napoli fa il giro del mondo da New York a Sydney da Buenos Aires a Londra con quelle immagini e quindi orgoglio partenopeo nel mondo potenza di Napoli cultura umanità profondità radici sensibilità amore affetto credo che questo sta a significare di quanto oggi Napoli sia potente Sindaco lasciamo questa bella pagina di 4 giorni intensi per Napoli lunedì alle 11 nella sala del Barone al Maschio Angioino primo consiglio comunale della seconda consigliatura targata De Magistris non mancano però già le fibrillazioni a livello politico lei qualche bacchettata già alla data per cercare di mettere ordine immediatamente ma non riesco proprio ad ipotizzare un giorno in cui a Napoli non ci siano fibrillazioni fibrillazioni politiche fibrillazioni sociali fibrillazioni amorose io penso che questa città debba avere le fibrillazioni guai che non avesse le fibrillazioni politiche poi è chiaro l'ho detto c'è chi si sente un giorno all'improvviso Aldo Moro o piuttosto Nildeotti questo a noi fa piacere perché vuol dire che evidentemente questa elezione oltre a consacrare nuovamente sindaco Luigi Domagisti dopo 5 anni di governo sta facendo come dire maturare ruoli personalità poi bisogna con i piedi per terra sta il sindaco con i piedi per terra ed è giusto che ci stia anche dal consigliere comunale al militante che ha fatto la battaglia politica qua noi non assegniamo poltrone e non diamo cagliardetti questa è una rivoluzione il popolo affidato a Luigi De Magistris la guida della città la legge affida a Luigi De Magistris la scelta degli assessori il consiglio comunale i consiglieri comunali la maggioranza è stata eletta con Luigi De Magistris quindi si lavora insieme ma si lavora anche col popolo si lavora con i territori si lavora con le persone non c'è solo il consigliere comunale il consigliere di municipalità l'assessore ma come più volte detto noi daremo sempre di più potere e responsabilità al popolo che non significa che da oggi come dire il popolo decide ogni cosa significa che si decide tutti insieme è una cosa molto importante quindi non esiste più la liturgia io ho bisogno di un assessorato io ho bisogno di una municipalizzata io ho bisogno di quell'altro ognuno può chiedere e fa bene perché si contribuisce poi alla fine si fa una scelta collettiva e soprattutto alla fine sceglie il sindaco che infatti in queste ore sto maturando la decisione della nomina degli 11 assessori che porterò con le deleghe rinnovate alle ore 12 del 18 luglio in consiglio comunale andremo ad approvare a nominare l'ufficio di presidenza il presidente del consiglio comunale mi auguro anche le commissioni e poi ci avveremo una grande maratona che comincerà tra il 3 e il 4 agosto e terminerà intorno al 12 agosto per l'approccio del bilancio perché poi ricordiamoci tutti che i consigli comunali anche oltre il sindaco e gli assessori vengono eletti per fare gli interessi della città non per fare gli interessi personali di chiunque o chi altro sindaco lei è sempre stato molto sincero con i nostri telespettatori anche adesso e come lo è in questa circostanza ma quanto l'ha infastidita la lettera del consigliere Lebro che rivendica comunque un posto in giunta per la sua lista perché è stato uno dei più votati devo essere sincero per nulla a me nulla mi infastidisce tutto ciò che ha uno spirito costruttivo come dire mi fa bene io ricevo sollecitazioni di quel tipo a decine a centinaia poi come sempre scelgo autonomamente quindi così come non mi faccio condizionare dal presidente del consiglio su Bagnoli così come non mi faccio condizionare dal giornale che mi fa la campagna elettorale contro non mi faccio certo condizionare dal consigliere comunale che viene eletto e che insomma ti chiede una cosa chiedere legittimo rispondere anche e poi la scelta aspetta al sindaco che deve trovare un equilibrio e una sintesi quindi io credo che Davide Lebro città ideale per De Magistris con Raimondo Pasquino che ne è stato diciamo l'artefice come dire sono richieste importanti sono persone che fanno parte della maggioranza e avranno un ruolo importante come lui anche altri hanno chiesto diciamo di poter avere un posto in giunta e quindi non mi infastidisce questa richiesta anzi è un modo come per dire noi vogliamo esserci vogliamo avere un peso vogliamo contribuire poi Lebro sa perfettamente che le scelte poi vengono fatte dal sindaco in piena autonomia quindi non c'è preoccupazione perché si trovi una quadra politica all'interno del consiglio comunale per far sì che poi si lavori serenamente perché il consiglio ha un ruolo fondamentale per la città io non ho nessuna preoccupazione se non quella di lavorare H24 per gli interessi non di un consigliere comunale ma per gli interessi della città quindi so trovare la quadra so trovare una sintesi credo che bisogna lavorare esclusivamente l'interesse della città questi atteggiamenti se vengono come dire poi in qualche modo enfatizzati troppo creano fastidio nella città perché è una liturgia superata a Napoli siamo oltre questa liturgia al sindaco compete trovare una sintesi un equilibrio e abbiamo 5 anni di tempo per far avanzare sempre di più la sintesi e l'equilibrio nell'interesse della città Luigi De Magistris è stato eletto per migliorare la qualità della vita dei napoletani la qualità dei servizi per far andare sempre Napoli più forte Luigi De Magistris non è stato eletto per trovare la quadra da Tizzi e Caio chi deve contare di più chi ha d'aveva poltrona bianca e chi ha d'aveva poltrona rossa quella è una liturgia di altri tempi che non ci appartiene quindi se le richieste sono per migliorare appunto la qualità benissimo se qualcun altro l'ho detto un giornale improvviso si pensa che è diventato Aldo Moro non funziona così Sindaco lei ha detto come non mi sono fatto condizionare dal governo su Bagnoli così non mi farò condizionare per altre scelte quindi abbiamo questo vale per tutti ma pure dal mio capo di gabinetto da chiuda un amico io decido autonomamente ho questo pregio difetto decido ascolto tutti poi decide la città la città mi fa una serie di proposte da tutti gli ambi e alla fine c'è una persona che deve decidere esattamente sì è quello che viene eletto dal popolo come sindaco della città a cui vengono affidate tra virgolette le chiavi di alcune decisioni quelle decisioni le devo prendere io quindi nessuno ti può tirare alla giacchetta anzi devo dire la verità poi sono abituato un po' così anche chi ha ragione se poi mi tirano troppo io mi infastidisco cioè sono un po' sono un po' particolare quindi non tutti entrano sempre nella psicologia del sindaco apprezzo molto chi sta al posto suo che non significa che non vuole significa che è attento che è sensibile che lascia le valutazioni a chi si affida Sindaco e questo incontro col premier Renzi dove si dovrà discutere non solo di Bagnoli ma di tante cose della città di Napoli quando e se ci sarà a questo punto visto che sappiamo che Renzi l'ha chiamata la settimana scorsa sì Renzi mi ha chiamato eravamo rimasti che si sentivano le segreterie le segreterie stanno in contatto anche l'altro lunedì si sono sentite io avevo dato un'ampia disponibilità a incontrarlo in settimana anche nella giornata di oggi nella giornata di domani il Presidente del Consiglio ha fatto sapere che questa settimana non era disponibile quindi siamo rimasti che attendiamo una data del Presidente del Consiglio mi auguro non siano i due anni che abbiamo dovuto aspettare che non riusciamo a incontrarlo ma noi ce ne facciamo una ragione ecco in questo modo abbiamo ulteriormente confermato che non è il Sindaco di Napoli che si isola il Sindaco di Napoli ha due anni che cerca l'incontro l'ha cercato anche dopo le elezioni l'ha addirittura sollecitato con una lettera il Presidente del Consiglio ha chiamato si è reso disponibile ha lasciato un po' un ragionamento su Anastasi io l'ho subito sgombrato al campo ho detto ci dobbiamo vedere io e te Presidente del Consiglio non c'entra nulla Anastasi perché vedo che lui anche ritorna ieri a 1002.5 i bagnoli abbiamo preso in mano la situazione e la stiamo bonificando la verità che l'hanno presa in mano perché abbiamo costretti a prenderla in mano perché ricordiamolo sempre a Televomera alle telespettatrici e telespettatori se non ci fosse stata l'ordinanza del Sindaco di Magistris due anni fa che inquina paga che Renzi ha impugnato e gli è andata male oggi lui non avrebbe assolutamente bonificato quindi se oggi comincia la bonifica è perché ci siamo stati noi e noi ci saremo a far che la bonifica vada avanti a perché sia fatta in modo corretto affinché il piano per Bagnoli non sia il piano del commissario ma sia il piano della città quindi noi vinceremo la battaglia delle bonifiche vinceremo la battaglia su Bagnoli come stiamo vincendo le grandi scommesse delle università e degli altri sempre in cooperazione con le istituzioni con le istituzioni non con propaggini istituzionali che non hanno nulla a che vedere con la democrazia commissari continuo a fare l'appello ci serve più sicurezza in città mandate più commissari della polizia di stato più donne poliziotti più uomini poliziotti più carabinieri e più finanzieri e noi saremo felici e ringrazieremo Alfano commissariamenti al porto via commissariamento Anastasi via commissariamenti non ci interessano noi ci interessano l'ordinarietà i poteri ordinari la democrazia il popolo l'assemblea popolare il consiglio comunale i consigli di municipalità non lo sto dicendo io è la costituzione sono del resto le leggi qualcuno ogni tanto intende fare una forzatura per fare interessi altri noi li abbiamo smascherati Renzi ci ha perso pure le lezioni su questo quindi incontriamoci andiamo avanti il piano per Bagnoli sta là miglioriamolo perfezioniamo non siamo i depositarie della verità ma si devono vedere il comune la regione e il governo lei ieri ha partecipato alla prima riunione del Lanci con i nuovi sindaci guidato da Fassino che la guiderà fino ad ottobre sì anche lì c'è un'assemblea dell'associazione nazionale dei comuni italiani importantissima a ottobre perché ci vuole un'Anci più autonoma anche dal governo oltre che dai partiti una sempre più forte collaborazione tra i sindaci e a ottobre ci sarà l'elezione del nuovo presidente del Lanci Sindaco c'è il tempo per una domanda perché come sappiamo questo spazio è a pesto alle domande dei nostri telespettatori vi ricordo la mail redazione chiocciolaterevomero.it continuate a scrivere noi vi risponderemo anche se non in questa puntata nella prossima comunque leggiamo questa domanda di Lucia che dice sono una sua elettrice del primo e del secondo mandato convinta delle sue capacità del suo amore per Napoli le chiedo però maggiore attenzione per la pulizia delle nostre strade mi piacerebbe vedere come accade a Parigi dove ho vissuto per qualche anno lavare ogni mattino alle 5 le strade centrali e periferiche è un'utopia? no non è un'utopia è un obiettivo Lucia ha ragione lo condivido in pieno è la priorità esattamente quello che dicevo prima impegnarsi tutti per migliorare la qualità dei servizi il decoro la pulizia la vivibilità e questo è uno degli obiettivi principali basta erbacce basta carte per terra quindi potenziare gli investimenti delle aziende partecipate per lo spazzamento per il diserbo per lavare le strade per tagliare le erbacce qui ci saranno dei segnali importanti anche nelle deleghe che sto costruendo in questi giorni che potenzieranno proprio questo obiettivo che deve mettere insieme dipendenti comunali assessori cittadini associazioni volontari società partecipate su questo io sarò inflessibile invece di pensare alle chiacchiere diciamo della liturgia politica queste sono le richieste che mi devono fare i militanti politici i cittadini le associazioni e questo è il controllo che devono fare i consiglieri comunali che non ci sia più quell'erba alta così a Rione Traiano a Scampiglia a Posilli in tutti i po' non è più accettabile noi abbiamo raggiunto un livello incredibile di efficienza per i soldi che avevamo ma oggi dobbiamo dimostrare che puntiamo ancora più in alto Napoli non si può accontentare del 7 di alcuni quartieri del 6 di altri quartieri dell'8 noi dobbiamo puntare al 10 al top e quindi questo pungolo e mi ha oltre che al pungolo anche l'aiuto che i cittadini le associazioni volontari ci possono dare io credo che noi raggiungeremo risultati incredibili io sono assolutamente fiducioso ma chi sbaglia paga l'ho detto sui i primi 6 mesi ci sta il tagliando chi non è in grado di raggiungere questi obiettivi va a casa può essere l'assessore può essere il direttore generale può essere chiunque va a casa perché il mandato a Luigi De Magistris non è stato dato per mantenere il livello raggiunto che già è ottimo rispetto a quello della meredità ma per andare ancora più in alto per vincere tutti gli scudetti noi siamo per vincere per lottare per vincere poi non otterremo tutti i risultati ma ci dobbiamo provare chi non è in grado va a casa Sì ma con noi la ringraziamo la salutiamo ci vediamo la prossima settimana puntuali come sempre grazie a tutti voi per averci seguito una piacevole serata arrivederci grazie grazie a tutti